ciao a tutti sono vittorio brumotti ho girato l'italia per raccontarvi storie di ogni tipo ma oggi ho deciso di riposarmi per guardare quello che farete voi oggi dalle gallerie d'italia nel centro di milano vi presento il nuovo contest d'intesa san paolo vita si chiama proteggere ad arte e ha un tema poco considerato dei giovani la protezione sto parlando di protezione nel senso di assicurazione un tema che le persone sentono lontano ma che fa parte della nostra vita di tutti i giorni di sicuro della mia perché il fatto di aver scelto delle assicurazioni mi permette di vivere le mie giornate più in serenità e di azzerare le preoccupazioni perché il senso di protezione è proprio questo avere la possibilità di godere appieno delle piccole e grandi cose che ci succedono dovrete condividere ciò che per voi rappresenta il valore dell'essere protetti potete farlo con qualsiasi forma espressiva un video una foto un post su instagram su tiktok un'opera d'arte insomma quello che vi consente di esprimere al meglio la vostra idea è molto semplice per partecipare basta andare sul sito proteggeradarte.it registrarsi e caricare il vostro contributo e adesso mi metto qui tranquillo e rilassato e vi aspetto tocca a voi ciao